Come questa transizione tecnologica sta aiutando e ci verrà in soccorso per i piani di spostamento a casa lavoro? L'elettrificazione nel mondo della mobilità sicuramente è un tassello importantissimo. Anche sotto questo aspetto secondo me va fatta molta informazione. La strada è sicuramente altrettanto lunga e oserei dire un po' in salita nel senso che oggi le quote di auto elettriche purtroppo sono ancora molto basse però come dicevo all'inizio è sicuramente una svolta importantissima e che bisogna accelerare. Andrea, se tu dovessi dare un consiglio per un'azienda che deve decidere a chi assegnare l'attività di gestione degli spostamenti a casa lavoro all'interno della propria organizzazione qual è il profilo migliore anche per esempio anche voi perché voi siete stati scelti tu e i tuoi colleghi per gestire questa parte e rispetto all'altra azienda dove dobbiamo cercarlo il mobility manager in azienda? Che caratteristiche deve avere? Diciamo che la scelta interna che non è stata sicuramente casuale all'interno di ABB è stata quella di scegliere gli HSE quindi coloro che si occupano della parte di salute e sicurezza ambiente in questo momento in questo momento salute e sicurezza ambiente la persona che si occupa di questo è diventato anche il mobility manager all'interno delle aziende forse perché comunque dal nostro punto di vista occupandoci già di tutto quello che riguarda ambiente, rifiuti gestione dei KPI tutto quello che riguarda la green electricity la carbon neutrality e chiaramente non è solo l'unica figura che si può occupare della parte di mobilità però avendo già un'infarinatura di tutto quello che riguarda la parte ambientale sicuramente ABB ha visto in queste figure forse la figura più adeguata a ricoprire questo ruolo a ricoprire questo ruolo